Oggi raga siamo su Fortnite per fare qualcosa di davvero pazzesco Infatti quest'oggi tenteremo di farci bannare da Fortnite Abbiamo visto ormai tutte le challenge possibili ed immaginabili su Fortnite Ma non avete mai visto sicuramente una challenge in cui qualcuno si prova a far bannare la Fortnite Ora voi giustamente penserete ma perché ti devi far bannare la Fortnite? È una cosa da stupidi In questo video non utilizzerò nessuna sorta di hack Quindi state tranquilli non verrò bannato permanentemente Considerate questo video come una specie di esperimento Ovviamente non vi consiglio di fare ciò che farò in questo video Anche voi mi raccomando non fatelo Ma se non utilizzerò le hack come faccio a farmi bannare da Fortnite? Semplicissimo Starterò una partita in singolo su Fortnite cercando di teammare con qualche nemico Vedremo chi vorrà teammare con Merga Vedremo chi vorrà essere bannato insieme a me Prima di iniziare con il video vi ricordo lasciate un bel like Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E attivate la campanellina delle notifiche per non perdere mai nessun altro esperimento simile Detto questo raga io vi lascio al video Ok raga per questa challenge ci serve davvero una skin molto troll E bananita fa il caso nostro Salviamo, usciamo e direi di startare subito la partita Ok raga direi di andare in un posto piuttosto vuoto di persone Potrebbe essere per esempio Sipi da Grifoglio Non è una città molto popolata Tentiamo ad andare lì e vediamo se qualcuno ci permette di essere bannati dalla partita Non pensavo di poterla mai dire questa frase in tutta la mia vita E invece l'ho detta raga voglio essere bannato da questa partita raga Ci dobbiamo riuscire al 100% C'è un bel po' di gente Un po' troppa penso Comunque va bene Va bene Comunque cerchiamo di atterrare tipo da questo Bealo Bealo Amici, 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 siamo amici Siamo amici, siamo amici Sì sì sì, siamo amici, siamo amici Vai, ci fanno, ci facciamo bannare Vai, primo tentativo Vai che vinciamo sta partita Vai Raga ci segnaleranno malissimo Ci butteranno fuori dalla partita Finalmente ci riusciremo al primo tentativo raga Primo tentativo Subito amicizia con uno Incredibile, incredibile Dov'è? Fra, dov'è? Oh porca Aia Dove si trova? Dimmelo tu Ah io non lo vedo Oh Lì, lì, lì Dove sei? Vieni qua Vieni qua, vieni qua, vieni qua Ah la Recon La Recon è lì È lì, è lì Vai C4 Tattica No Niente Niente da fare bro Dobbiamo pusharlo Dobbiamo pusharlo Dai, dai Let's go to push Ok, cosa facciamo? Cosa è intenzione di fare? Ah sì, sì Giusto I scildini I scildini Vai così Vai così Andiamo Andiamo Oh cacchio Oh cacchio Grazie fra Però mi protetto Nel frattempo mi faccio gli altri scildini Vai così Vai morto, morto, morto Vai così Vai Siamo troppo forti fra Tieni i scildini Vai Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Bello Che c***o Al primo, raga Al primo Abbiamo subito teamato Subito Probabilmente ci banneranno malissimo Probabilmente Probabilmente Però nel dubbio Noi facciamo sta partita Cerchiamo di vincere La raga Portiamocela a casa Perché assolutamente Fra Fra Sbagliamo Siamo troppo friend Dai, dai Prendi tutto Stammi vicino Stammi attaccato Fra Non dobbiamo mai staccarci Dobbiamo essere tutti e due bannati Quanto mi sento furbo Se ci buttano fuori dalla partita Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo Al primo tentativo Di solito ne faccio tipo 350.000 Prima di riuscire a fare una roba Invece questa Alla prima botta Abbiamo beccato Il più grande amico dell'uomo Eccote qua Eccote qua Amico Amico Vieni, vieni Avevo paura Di perderti Sai com'è Di questi tempi Raga, non ci posso credere Ma questo qua Vuole essere bannato anche lui Non so se stiamo facendo Tutti e due La stessa challenge Oppure non lo so Però davvero Fantastico Fantastico raga Primo tentativo Beh vabbè raga Io sono ancora qua Stupito Che al primo tentativo Sono riuscito a trovare Uno stupido quanto me Che vuole essere bannato Non ci posso credere davvero Andiamo a uccidere tutti I nabbi rimanenti Andiamo, andiamo Andiamo che la vinciamo Vai così Raga Raga Ma di cosa stiamo parlando Eh La No 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 Sei stato espulso per teaming Ricordati di giocare lealmente a Fortnite Ok raga Al primo tentativo siamo stati chiccati fuori dalla partita Quindi missione compiuta Non ho intenzione di provare un'altra volta A teammare all'interno delle partite Perché poi ho paura Che mi bandino permanentemente da Fortnite Che non è minimamente quello che voglio Quindi niente raga Spero davvero che questo video vi sia piaciuto Se fosse così mi raccomando lasciate un bel like Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E attivate la campanellina delle notifiche Per non perdere mai nessuna news Sui miei video Nel video di oggi salutiamo Carlo Merola e TV Rider 23 Vi ricordo che se volete Essere salutati anche voi all'interno di un mio video Basta che vi iscrivete al canale E attivate la campanellina delle notifiche Detto questo raga noi ci vediamo Ad un prossimo video Bella Ciao